Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la prima maglia dell'Al Nasser per la stagione 22-23, ovviamente la maglia di casa di Cristiano Ronaldo. La prima maglia dell'Al Nasser per la stagione 22-23 è prevalentemente gialla con maniche di colore blu. La nuova maglia di Cristiano Ronaldo è, come era prevedibile, già un pezzo da collezione. Appena messa in vendita nello store, infatti la casacca giallo-blu è andata esaurita in poche ore. Dal design non esaltante riporta al centro del petto lo sponsor Shurfa, un portale per imparare online la lingua araba. Di certo se la maglia sta andando a ruba non è per la sua qualità estetica, ma per la popolarità planetaria di CR7 che trasforma in oro tutto ciò che tocca. La maglia authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. Devo dire che non sono colori che mi entusiasmano, però la maglia di Cristiano Ronaldo è una maglia che dovevo recensire assolutamente. Nella mia classifica prende tre stelle. La maglia comunque è fatta molto bene a ottimi materiali con delle finiture veramente di pregio. Qui in alto vedete il costo che per la maglia di Cristiano Ronaldo è veramente una sciocchezza, qualcosa che dovete sicuramente avere. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e mi raccomando andate a vedere perché trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima. Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.